I tre studiosi, i tre scienziati tedeschi eletti nella celebre seduta del gennaio 1833 furono appunto Humboldt, Gauss e Savigny. Savigny che viene qui presentato dal professor Mario A. Lozano, professore emerito di filosofia del diritto e di introduzione all'informatica giuridica nell'Università del Piemonte Orientale. In realtà il Piemonte Orientale è soltanto il punto di arrivo, il punto di arrivo di una lunga carriera, iniziata di studioso e non soltanto di studioso, iniziata molto più che, cioè più oltre mezzo secolo fa. Iniziata tra Torino e Milano, tra la Torino della casa editrice in Audi e in ambito accademico Norberto Bobbio e la Milano dell'Istituto di Filosofia del Diritto, poi diventato Istituto di Filosofia e Sociologia del Diritto, che fu a lungo diretto da Renato Treves, di cui Lozano è stato stretto collaboratore. Legati tutti e tre, Bobbio, Treves e Lozano dall'interesse per la riflessione filosofica di quello che non era più un astro sorgente, ma che cominciava a essere noto tardivamente nella cultura italiana, cioè Hans Kelsen, a cui l'allora giovane professor Lozano dedicò studi e fatica anche di traduttore. Successivamente Lozano ha percorso una lunga carriera a Milano, poi a Firenze dove per cinque anni diresse l'Istituto del CNR per la documentazione giuridica, che in realtà poi era il primo centro di applicazione in Italia dell'informatica al mondo giuridico, al diritto. Dopodiché, ritornato a Milano, venne a concludere la sua carriera in quella che è stata la sua regione di origine. Lozano ha al proprio attivo una produzione molto intensa, così come molto intensa è stata la sua frequentazione di università e anche questo direi forse più ancora che di università, di biblioteche universitarie in Italia, in Germania, nell'America Latina, dove ha insegnato e dove ha avuto anche onorificenze e lauree onoris cause. Mi limiterò a ricordare due aspetti di questa attività, anche perché poi non voglio rubare il tempo, perché oggi noi dobbiamo parlare di Savigny e non di Rosano, due aspetti molto importanti della sua attività. L'una è rappresentata appunto dall'interesse molto precoce per la informatica e per l'applicazione della informatica al diritto. L'altro aspetto che voglio ricordare qui, in questa sala dove spesso si parla di comparatistica giuridica e dove uno dei nostri soci è stato tra gli iniziatori della comparatistica giuridica italiana. Ecco, molti anni fa, adesso non ricordo la data, ma spero che l'autore se la ricordi, molti anni fa, Losano scrisse un'opera, mi pare, o due o tre volumi, nella PBA in Audiana, che era un... che offriva un panorama dei sistemi giuridici a livello internazionale. Ecco, 78. Io avrei... che fosse la seconda metà degli anni 70, mi sembrava, ma non volevo. Non volevo fare una scommessa, volevo invece che l'autore appunto... Ecco, questi due aspetti della sua attività voglio ricordare. E concludo ricordando anche il suo interesse per la scienza giuridica tedesca, che in qualche modo è risalito all'indietro da Kelsen, appunto, a Savigny, a Yering, che ha studiato, alla cui edizione critica ha collaborato, e infine a Savigny. Questa pietra miliare, ecco, nella storia del diritto europeo, in un momento in cui la codificazione era sotto accusa, e Savigny certamente non la vedeva con favore. Grazie. Ringrazio i presenti che cercherò di non affliggere con particolari eccessivamente tecnici sul diritto romano, di cui Savigny è stato nel secolo XIX l'esponente principale, o uno dei principali, sempre per le difficoltà che ci sono, a creare queste classifiche di tipo internazionale. Mi permetterò di seguire, nella misura del possibile, un testo che mi sono preparato, perché la materia è così straripante che non vorrei trattenervi oltre le 22 e le 23 che ho già pianificato col testo scritto. E partendo proprio direttamente dal personaggio che ci interessa, la prima cosa che colpisce in generale è questo nome francese del principale giurista tedesco. E infatti la famiglia di Savigny trae il suo nome da una località francese che la famiglia dovette abbandonare in seguito alle persecuzioni, alle guerre di religione nel 500-600. Friedrich Karl von Savigny, anche lui nato alla fine del Settecento e vissuto fino alla metà dell'Ottocento, appartiene a quegli ugonotti che trovarono protezione negli stati tedeschi di religione protestante. La sua famiglia, quindi, era già da tempo radicata in Germania e tutta la carriera di Savigny si svolge negli stati tedeschi. Dico sempre stati tedeschi a plurale perché ovviamente la Germania a quell'epoca comprendeva oltre un centinaio di stati tra grandi e piccoli. Passa attraverso varie università, non ancora trentenne, nel 1810 ottiene la cattedra di storia di diritto romano nell'Università di Berlino, che era stata appena fondata, quindi entriamo proprio nel vivo delle celebrazioni Torino-Berlino, divenne in seguito rettore di quell'università come successore di Fichte e, oltre all'attività didattica, ebbe una rilevante carriera ministeriale di cui non ci soffermeremo, abbastanza contraddittoria. Il professor Rossi ricordava l'avversione di Savigny per i codici, però poi gli offrirono il ministero per la legislazione e a Savigny dobbiamo il codice penale della Prussia che divenne poi il fondamento del codice penale dell'impero tedesco del 1871. Savigny è uno dei principali, se non il principale giurista tedesco che nel secolo XIX insegnò il diritto romano, materia che nel secolo XIX aveva un'estensione e un'importanza non comparabile con la situazione attuale, anche se la materia romanistica è uno dei cardini delle nostre facoltà. Come l'Italia, la Germania dell'Ottocento era divisa in numerosi stati e questi stati avevano una forma politica, dogane, valute, il proprio sistema metrico, questo vi spiega come fosse complicata la vita, per cui discendendo il reno c'erano decine di barriere doganali che si dovevano superare e così via. Ciascuno di questi stati aveva anche il suo diritto locale e si poneva il problema per le attività che fossero suprastatali, interstatali. In questo caso, per superare le difficoltà che sorgevano nei rapporti interstatali, si ricorreva al diritto romano che era però stato codificato nel senso a tecnico della parola nel Cinquecento dopo Cristo da Giustiniano, cioè 1300 anni prima, e progressivamente era stato poi adattato con crescente fatica, alle esigenze dei tempi nuovi. Questi adattamenti producono quello che venne chiamato usus modernus pandectarum, l'uso moderno del diritto romano che suppliva a quello che oggi chiameremmo diritto federale in Germania. Savigny pubblicò sei volumi intitolati appunto il sistema del diritto romano odierno che all'orecchio nostro è abbastanza contraddittorio perché diremmo se è diritto romano non è odierno, se è odierno non è diritto romano. In realtà la situazione tedesca era radicalmente diversa. A livello territoriale e locale c'era il diritto locale, al di sopra come diritto interstatale esisteva il diritto romano. Quindi il romanista non era solamente uno storico del diritto antico, ma era un giurista con una preparazione a tutto campo. Doveva conoscere bene il latino e anche il greco, doveva conoscere la storia di Roma e anche quella del Medioevo, però al tempo stesso doveva avere una chiara percezione dei problemi del suo tempo e del suo territorio e doveva saperli affrontare con le regole che gli offriva un diritto di un millennio anteriore. Diritto raffinatissimo, senza dubbio, ma sempre più lontano dalla realtà di quel secolo XIX, che è il secolo dell'industrializzazione, in cui la società agraria è gradualmente sostituita dalla società industriale. Insomma, il romanista ottocentesco era un filologo classico, uno storico del diritto e anche un avvocato civilista nel senso nostro del termine. Pensate che il mio caro Rudolf von Jering, romanista, studioso del diritto romano, col diritto romano doveva risolvere l'espropriazione dei fondi per la costruzione delle ferrovie e di fatti Jering è la persona che a un certo punto non ne può più, abbandona il diritto romano e passa a una concezione completamente diversa dal diritto. Qui siamo nella generazione anteriore, il diritto romano comincia a essere oggetto di discussione, ma ha una sua presa salda su tutti i territori tedeschi. Dunque, i giuristi tedeschi dell'Ottocento, Savini compreso, si trovano ad operare in un mondo che sta passando dalla società agraria e feudale a una società industriale borghese e liberale dal punto di vista politico. Praticamente vivono su una faglia geologica, su una frattura fra due blocchi di roccia. Il simbolo di questa frattura è Napoleone, perché con lui tutto cambia. Basta un proverbio del mio Monferrato per capirlo quando si diceva «Dop Napoleum, nianca i proverbi, assumpibum». Ha cambiato talmente tutto che non funzionavano più neanche i proverbi. Nel diritto, la lenta stratificazione delle consuetudini del mondo agrario veniva sostituita dai codici che erano frutto della ragione illuministica, cioè di una costruzione razionale, di regole necessarie al mondo borghese e liberale, in ascesa. I due mondi in contrasto sono simbolizzati, da un lato, dal Corpus Iuris di Giustiniano, 500 d.C., e dall'altro, dal Code Napoleon del 1804. Questa contrapposizione di testi giuridici esprime anche una contrapposizione politica più generale. I conservatori si appigliavano al diritto romano ereditato dall'epoca feudale, i liberali proclamavano invece la necessità di nuove regole attraverso nuovi codici, e cioè via le troppe frontiere, le dogane, gli ostacoli, tanto per le merci quanto per le idee. Les se faire, les se allè. In questa contrapposizione Savigny assume una rilevanza centrale e nel 1814 il suo conterraneo Thibaut, nome che vi dice subito che anche questo è un ugonotto, professore di diritto romano, pubblica un libro in cui propugna la necessità del nostro tempo per la legislazione e la scienza giuridica. Sostiene cioè che si deve fare un codice per tutta la Germania che allora però non era un unico Stato ma era una pluralità di Stato. E Savigny gli risponde viceversa con un libro che è giustamente diventato famoso intitolato La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la scienza giuridica in cui nega l'esigenza della codificazione ed esprime la sua teoria del diritto che sarà poi una teoria accettata da una numerosissima scuola storica che non posso illustrarvi neanche brevemente come è stato fatto per Gauss perché per quasi tutto l'Ottocento copre l'intera Germania e fuori dalla Germania anche. In sintesi cosa diceva Savigny? Che il diritto nasce non dall'arbitrio del legislatore ma dalle forze interne dal convincimento del popolo. La fonte del diritto non è il codice ma la consuetudine. non è la volontà dello Stato ma quello che lui chiamava lo spirito del popolo come la lingua come gli usi e costumi. Questa scelta teorico-giuridica come dicevamo prima presenta un importante risvolto politico. Savigny è per la conservazione illuminata della vecchia struttura sociale non per l'innovazione napoleonico-liberale. Parlo di conservazione illuminata perché Savigny rifiuta i codici ma solo per il diritto civile. Pensate com'è difficile innovare per legge il diritto di famiglia. Lì valgono proprio delle radici molto più profonde. Savigny accetta però la codificazione per il diritto penale per una ragione profonda e vera. La codificazione nel diritto penale garantisce la massima certezza possibile delle norme che comportano pene gravi. e di conseguenza ci si spiega perché l'avversario della codificazione come ministro abbia emanato un codice penale. Questa duplice contrapposizione sociale giuridico e politico si manifesta soprattutto nel Parlamento del 1848 il primo Parlamento pan-tedesco della Germania quando la Germania unita non esistiva. In esso i romanisti pochissimi rappresentano la parte conservatrice mentre i germanisti molti si fanno portavoci delle idee liberali cioè sono i fautori di un diritto formulato in codici e fondato su tradizioni anche germaniche e non solamente romanistiche. Per questa ragione in Germania il diritto romano venne applicato dicevamo come diritto vigente fino al primo gennaio 1900 quando entrò in vigore il primo codice civile per tutta la Germania. Quindi questo codice civile tedesco del 1900 chiude il secolo delle codificazioni che si era aperto nel 1804 col code Napoleone. Da questa visione paneuropea scendiamo al Piemonte e ai suoi rapporti con la Germania. Nell'800 abbiamo detto erano Germania e Italia due entità geografiche suddivise in stati. Noi di questi stati esamineremo brevemente due il Piemonte e la Prussia stati simili ma non troppo. Il Piemonte aveva sì o no le dimensioni del Belgio attuale e a quell'epoca i 30.000 chilometri quadrati del Piemonte comprendevano 3 milioni e mezzo di abitanti. La capitale Torino superava di poco i 200.000 abitanti. La Prussia era uno stato in continua espansione a metà 800 aveva raggiunto 280.000 chilometri quadri quasi 20 milioni di abitanti. Quindi la Prussia era grosso modo il decuplo del Piemonte. Rispetto alla massiccia unitarietà della Prussia il Piemonte era molteplice anzitutto per territorio perché essendo Piemonte Sardegna per la Sardegna che aveva una situazione socio-economica peculiare venivano emanate norme specifiche mentre per il cosiddetto Piemonte continentale venivano applicate norme proprie distinguendo però la Repubblica di Genova e la Liguria aggiuntesi più tardi dal Piemonte Piemonte vero e dal Delfinato quindi un'unitarietà relativa per quello che riguarda dal territorio anche dal punto di vista linguistico l'unitarietà era minore che in Prussia il Piemonte nasce a Cavaliere delle Alpi alla capitale Chambery fino a dopo il 1500 si usava il francese come lingua diffusa colta al punto che ancora lo statuto albertino nel 1848 stabilisce che il francese è una delle due lingue ufficiali del Parlamento se voi prendete i verbali i verbali sono in italiano e in francese ma non il testo italiano e la versione francese o viceversa chi veniva dall'area francofona usava il francese chi veniva dall'area italofona usava l'italiano e si poteva rispondere nella lingua in cui si voleva e in tale veniva verbalizzato questo spiega perché il Piemonte fosse particolarmente legato al modello culturale francese che ereditava via Chambéry dai secoli anteriori però nel corso dell'Ottocento questo modello ispiratore francese perde attrattiva perché la Francia ne aveva combinate troppe aveva disatteso troppe speranze del Piemonte che stava in questo momento mirando all'unificazione dell'Italia rapidamente la delusione dei patrioti piemontesi verso la Francia incomincia con l'accessione di Venezia nel 1797 all'Austria prosegue con il mancato appoggio nel 1799 alla rivoluzione napoletana cresce ancora con l'appoggio francese allo stato della Chiesa contro la Repubblica Romana e nel 1859 c'è l'interruzione unilaterale da parte francese col trattato di Villafranca della comune guerra contro l'Austria che amputa una campagna vittoriosa a questo punto il modello francese era già piuttosto vacillante nel 1870 arriva la battaglia di Sedan che dà un colpo non solamente in Piemonte ma a livello mondiale all'immagine della Francia e segna la progressiva ascesa della Germania non ancora unitaria sulla soglia di diventarlo ma non ancora unitaria per questo motivo il Piemonte e come eredità piemontese il nuovo stato italiano incominciano a distanziarsi sempre di più dal modello francese che resta un modello rilevante e a interessarsi sempre di più al modello tedesco oltretutto la Germania è accomunata all'Italia e al Piemonte da altri da alcuni elementi interessanti come per esempio le affinità storiche dovute alle invasioni napoleoniche ai moti del 48 alla tarda unificazione nazionale e se vogliamo continuare dopo i risorgimenti le due guerre mondiali le dittature fascista e nazionalsocialista gli anni di piombo sono tutti elementi che accomunano questi due stati i piemontesi vedono nella Prussia e negli stati tedeschi qualche cosa di estremamente positivo rispetto a questa Francia che li aveva bidonati troppo spesso vi citerò solo un passo ovviamente di un piemontese come si deve docente di storia alla scuola superiore di guerra qua a Torino che subito dopo la battaglia di Sedan scrive criticamente la Prussia è ancora obesa per istituzioni feudali e per eccesso di militarismo quindi aveva una percezione chiara ma guardatela da un altro punto ora parliamoci schietto e confessiamo pure che la sostanza dei principi della rivoluzione francese vive più in pace con una nazione che alimenta le università overegna sovrana la libertà della scienza la Germania anziché una che ha fatto da sentinella al Papa che l'essenza della civiltà trovasi più in armonia con un popolo sobrio che vede l'istruzione diffusa in tutte le classi la Germania anziché con uno che ha permesso la schiavitù del pensiero e la distruzione della libertà di insegnamento la Francia che il progresso dei tempi moderni è penetrato meglio in un esercito che crea per il nobile l'obbligo delle istruzioni la Germania anziché in quello che statuisce per il contadino il diritto di diventare generale la Francia e poi dice datemi Moltke datemi Rom io perdono loro i Fong datemi Bismarck e io gli fograzie ad essere conte e vorreste che io chiamassi più civile un democratico asino che un aristocratico studioso laborioso che si fa ammazzare per il suo paese la civiltà si trova dove regnano la libertà del pensiero la diffusione dell'istruzione la sobrietà dei costumi la moralità dell'amministrazione la fede in un principio ideale la disciplina nell'esercito e poi frase conclusiva e altamente significativa e in tutti il sentimento del dovere in tutti quel medesimo rispetto ai diritti dell'autorità che questa deve avere per tutti i diritti del popolo avete un'idea di quello che nella percezione del Piemonte dopo le vicende francesi nella seconda metà dell'ottocento era la visione della Germania dal canto loro i tedeschi avevano sempre guardato con interesse l'Italia prima di tutto perché era la tradizionale meta del Grand Tour che per tutto l'ottocento completava l'educazione delle classi agiate non solo tedesche ma di tutta l'Europa i giuristi poi trovavano nelle biblioteche di tutti gli stati italiani le fonti di quel diritto romano che per i tedeschi era ancora diritto vigente ovviamente questi scambi si riflettono in alcuni testi perché quasi tutti i viaggiatori italiani lasciavano o una memoria o un viaggio in Italia che ritroviamo come fonti su un'Italia che non c'è più un filologo classico con un nome importante Ulrich von Wilamowitz Möllendorf aveva soggiornato in Italia dopo l'unificazione e era stato a Roma la percezione cioè questo è interessante perché è una percezione di secondo grado Wilamowitz ci riferisce come lui vede che gli italiani recepiscono i tedeschi e nelle sue memorie scrive era conforme allo spirito del tempo che si venisse salutati ovunque con rispettosa gioia come prussiano invece non si deve usare tedesco che significa austriaco vostra eccellenza che mi sta in Cagnesco vi ricordate e lì si parla di tedeschi per gli austriaci soprattutto gli ufficiali italiani mostravano sentimenti camerateschi poi c'è stata l'unificazione della Germania la conversione valutaria quando la valuta tedesca sostitui quella prussiana il cambio a valuta a Torino non voleva accettarla non è prussiano dopodiché arrampicato su una scala su un muro di Roma Vilamovitz trascriveva una lapide dettandola un collega che era per terra e rivolgendosi ovviamente in italiano agli romani che progressivamente si riunivano intorno a questo gruppo di stranieri per guardare che cosa facevano e nelle sue annotazioni Möllendorf conclude era ancora l'Italia dei dialetti quella il nostro italiano ci procurò più volte l'onore di essere presi per piemontesi perché un altro personaggio importante di cui ci occupiamo solo rapidamente era Mittermeier vincolato anche lui socio della nostra accademia anche lui depositario di un contatto costante e soprattutto non possiamo illustrarlo ora attraverso Pietro Luigi Albini autore di una serie di informazioni che Pietro Luigi Albini membro della commissione di riforma dell'università tradusse nell'organizzazione degli studi anche giuridici a Pietro Luigi Albini via Mittermeier dobbiamo la fondazione della fondazione come materia obbligatoria della catena di filosofia del diritto e quindi quella serie di studiosi che attraverso poi Gioele Solari e Bobbio è arrivato fino ai nostri giorni l'altro personaggio fondamentale ovviamente il principale probabilmente è Savini che fu socio dell'Accademia delle Scienze che visitò l'Italia e sul quale esistono una serie di studi approfonditi fatti da Laura Moscati che permettono di esaminarne vari aspetti anzitutto mentre Mittermeier che era veramente un italofilo pensate che la corrispondenza con Albini è tutta in italiano da parte di Mittermeier anche la corrispondenza con Savini si svolge in francese Mittermeier viaggiò otto volte in Italia e se pensate a come si viaggiava nell'Ottocento è stato un atto di affetto eroico verso il nostro paese Mittermeier viaggiò due volte scrisse anche lui un viaggio in Italia che non pubblicò ma che è stato poi valutato a fondo negli scritti della Moscati in Italia Savini come cultore del diritto romano ebbe una grande rilevanza perché il diritto romano da noi era particolarmente importante limitandoci al Piemonte all'Accademia delle Scienze ci sono le lettere di Savini e quelle con cui Pietro Luigi Albini annuncia a Sclopis il suo desiderio di tradurre le opere di Savini cioè quasi tutte le opere di Savini che sono opere in 6-7 volumi ponderose salvo quelle più di intervento polemico come quello sulla codificazione sono state tutte tempestivamente tradotte in Italia e in generale le traduzioni italiane sono migliori e più complete di quelle francesi Albini vorrebbe pubblicare lo cito tra virgolette la traduzione dell'operetta di Savini sulla vocazione della nostra età alla legislazione cioè quella contraria ai codici Sclopis lo sconsiglia anche perché vedremo Sclopis era nella commissione per il codice civile del 37 del Piemonte e quindi non e era in realtà Sclopis un avversario teorico di Savini con cui intrattiene però un'ottima corrispondenza come vedremo in seguito preferiscono occuparsi delle grandi opere di Savini e se ne tenta la traduzione scrive proprio Sclopis io mi adopero affinché esse vengano tradotte le opere cioè sul diritto romano e non quelle anticodicistiche nell'Accademia di Torino è stato ricordato Savini entrò nella seduta aurea del 30 gennaio 1833 quando appunto furono nominati Alexander von Humboldt Gauss e altri ancora mi sembra anche Manzoni in quell'epoca il processo di elezione era abbastanza complicato ma sicuro la classe morale sceglieva i candidati della classe morale e poi a classi unite si faceva l'elezione finale è risultato eletto con cinque voti che era una votazione alta lo si vede nella gradazione e da questo momento inizia con Sclopis personaggio oggi ingiustamente dimenticato ma di estremo rilievo pratico e politico oltre che culturale in quell'epoca uno scambio di lettere dal 33 al 1852 in cui si affrontano seriamente vari problemi ed è proprio su queste lettere che io mi intratterrei sperando di intrattenere anche voi tra l'altro e cioè un gruppo di lettere sulla codificazione pre-giustinianea non sulla codificazione in sé ma su un pasticcio editoriale che era capitato in quel momento e poi su un aspetto specifico della legislazione piemontese dunque Sclopis a un certo punto scrive a Savigny perché un allievo di Sclopis sta pubblicando un testo anteriore alla codificazione giustinianea e si scopre che un piemontese un bibliotecario qua a Torino Carlo Baudi di Vesme sta lavorando sullo stesso tema e ha scoperto 22 costituzioni che erano ignoti al professore Henel dell'università di Lipsia allora a questo punto il rischio è che di questo codice teodosiano escano in parallelo due edizioni in cui ognuna è incompleta rispetto all'altra incomincia c'è da mettersi in contatto a questo punto nello scambio di lettere la prima affermazione che ricorre costantemente da parte di Sclopis sequesta questa difficoltà delle nostre comunicazioni con la Germania è una vera calamità tutte le lettere che si incontrano hanno delle difficoltà a far arrivare i libri a ricevere la posta eccetera eccetera e comunque la corrispondenza è molto fitta nel dicembre del 36 si chiede appunto l'aiuto da parte di Savigny a Sclopis quindi un rapporto diretto ma vedete in che termini mi permetto di rivolgermi alla sua bontà scrive Savigny per una questione letteraria il signor Carlo Vesme bibliotecario a Torino ha scoperto 22 costituzioni inedite del codice teodosiano e ne ha annunciato la prossima pubblicazione ora il signor Enel professore di diritto all'Ipsia e mio intimo amico oltre che allievo ha dedicato una parte notevole della sua vita alle ricerche su questo codice percorrendo tutta l'Europa durante più di sette anni da qualche anno ha cominciato a stamparlo e già ne sono state pubblicate alcune dispense o sedicesimi lei può ben comprendere come in questo momento questa notizia abbia per lui un'importanza ben maggiore che per altri si è subito rivolto al signor Vesme per chiedergli l'invio quanto più rapido possibile delle pagine stampate questa comunicazione prosegue poi non sminuirà in alcun modo il pregio e il merito anzi servirà di fondere quanto dobbiamo allo zelo letterario del signor Vesme ed eviterà che l'edizione del signor Enel abbia il difetto di essere incompleta subito dopo la pubblicazione ovviamente il corrispondente italiano Sclopis prende immediatamente contatto e gli scrive una lettera in cui dice che Vesme ha addirittura anticipato il desiderio perché ha già cercato di mettersi in contatto con il corrispondente tedesco e alla fine la risposta è una mediazione direi molto operativa da parte di questo Sclopis che gli dice il signor Vesme ha realizzato questi studi che vanno in parallelo con quelli di Enel cerchiamo di fare un'unica edizione però detta delle condizioni precise che a Vesme venga dato il riconoscimento di quello che ha scoperto che venga indennizzato delle spese che ha già intrapreso con un libraio di Torino per pubblicare quale cose eccetera eccetera in questo accordo nasce tra Torino e Lipsia l'edizione del codice teodosiano in cui cooperano Enel e il nostro Vesme attraverso la mediazione dei due maestri Savigni e Sclopis viceversa un'altra circolazione interessante è quella dei modelli legislativi e cioè abbiamo visto come Albini Mittermeier abbiano portato in Piemonte il modello educativo dell'università tedesca in particolare nella facoltà di giurisprudenza abbiamo visto la genesi di questa edizione congiunta di fonti pre-giustinianee ma quello che è interessante è che mentre il Piemonte guarda il modello tedesco diventa il Piemonte stesso per alcuni stati modello in alcuni campi della legislazione in particolare asaminerei la legislazione sulle acque in modo molto sintetico perché l'acqua era in questo momento un elemento essenziale quanto lo è oggi però era non soltanto essenziale per l'agricoltura ma costituiva anche la principale infrastruttura dei trasporti probabilmente tutti ricordano i viaggi in chiatta nel film l'albero degli zoccoli cioè erano le vie di comunicazione negli Stati Uniti io abitavo in una via che era vicino alla via del canale dove il canale non c'era più era stato svuotato e si era fatta passare la ferrovia nel tracciato del canale ma quando non c'era ancora la ferrovia prima del motore a scoppio prima del motore elettrico prima del motore a vapore ancora il canale era la via di comunicazione inoltre era il principale motore l'acqua dei mulini delle segherie di piccole imprese artigianali di ogni tipo quindi il rinnovamento liberale porta un ammodernamento dell'agricoltura piemontese e quindi una revisione di tutto il sistema irriguo del piemonte infatti i grandi proprietari terrieri erano quasi tutti nobili però una nobiltà che aveva tratti liberali moderati in politica e imprenditoriali in economia il Carlo Baudi di Vesme era anche come piemontese proprietario di una grossa tenuta in Sardegna e ha lavorato pubblicando anche sulla riforma agraria possibile in Sardegna Cavour come proprietario agrario in Piemonte lo ricorderemo tutti non fosse altro che per il canale il conte Sclopis assertore dei codici non accetta la posizione di Savigny partecipa direttamente alla redazione del codice del 1837 in una stagione legislativa assolutamente eccezionale di cui qui non possiamo occuparci e in quel codice civile del 1837 Sclopis si occupa delle acque innovando il codice Napoleone che era del 1804 mentre quest'ultimo si atteneva alla regolamentazione delle acque secondo l'origine romanistica il codice sabaudo regolato da Sclopis regola le acque per l'irrigazione e come forza motrice tenendo conto delle esigenze economiche la presenza dello Stato accanto ai privati la supremazia di certi privati rivieraschi rispetto ad altri privati con tutta un sistema di norme che è particolarmente moderno al punto che tenendo conto delle esigenze dell'economia nuova che stava sorgendo questo modello viene preso dalla Germania dalla Russia dalla Francia e dal Portogallo c'è questa circolazione di questo modello alla diffusione di queste idee ritorna Mittermeier che nella sua rivista pubblica gli articoli di Sclopis fa la traduzione e la recensione di una parte del codice e poi per concludere questa parte sull'acqua bisogna tener conto che tutte le vie di comunicazione hanno un risvolto militare ce l'ha l'acqua come alla fine dell'Ottocento l'avranno le ferrovie come l'avranno le autostrade nel secolo XX in Germania la prova dell'importanza di questo sistema di canali molto moderno viene con la seconda guerra di indipendenza quando nel 1859 gli austriaci sfondano le linee piemontesi e minacciano di arrivare a Torino entrano in Piemonte minacciano Torino il ministero delle finanze Giovanni Lanza e il ministro della guerra Alfonso Lamarmora autorizzano l'allagamento dell'area tra Dora Baltea e Sesia e cioè 45.000 ettari praticamente tutta la provincia di Vercelli vengono coperti da 38 milioni di metri cubi d'acqua l'esercito comandato dal generale Ferenc Giulai si impantana esercito austriaco ovviamente il ritardo nel movimento dell'esercito austriaco permette la congiunzione delle truppe francesi con quelle piemontesi le sorte della guerra si capovolgono nel Parlamento subalpino Cavour celebra quell'avvenimento dicendo se con l'incendio della città di Mosca l'impero russo ha potuto respingere l'invasione francese nel 1812 io credo che a buon diritto noi possiamo affermare che mercè l'allagamento dell'intera provincia di Vercelli noi abbiamo impedito all'invasione austriaca di estendersi fino alla capitale gigantesco pantano e fra i piemontesi all'epoca circolava un motto canzonatorio al Giulai le tournandre con la pauta tacà ai pe per i non regnicoli il generale Giulai è tornato indietro con i piedi pieni di fango un'infangatura questa di dimensioni da Guinness dei primati d'altra parte il realizzatore di questo maestoso allagamento aveva un nome estremamente appropriato Noè non quello dell'arca ma Carlo Noè da Bozzole Monferrato ingegnere capo del demagno piemontese infine l'ultimo punto Savigny è l'autore di una proposta di creare un Erasmus ante litteram tra il Piemonte e la Prussia nelle lettere dell'epoca che si sono scambiate si nota che la conoscenza reciproca l'esigenza di conoscenza reciproca era così forte che i personaggi viaggiavano restando mesi a volte addirittura anni però Savigny tenta una costruzione più razionale e cioè non una proposta estemporanea ma una meditata proposta in una lettera composta di quattro pagine in cui propone questo Erasmus ante litteram e io lo esaminerei brevemente per terminare che cosa propone? beh la causa occasionale è l'invio a Berlino da parte sempre del nostro Sclopis di uno studente piemontese che si chiamava Tancredi Canonico e che divenne poi professore di diritto romano qua scrive Savigny la corrispondenza fra i due era in francese mentre la corrispondenza di Mittermeier è in italiano e quella di Henel con Vesme è tutta in latino quindi anche le edizioni complete avranno loro da fare su questo campo scrive Savigny l'intrattenermi con questo bravo e amabile giovanotto mi ha fatto nascere un'idea che non posso reprimere dall'esprimerle e gli dice la genesi gli propone questa genesi della proposta lei sa bene quanto me che le fasi della scienza vanno per così dire oscillando fra le varie nazioni per esempio lo studio del diritto è stato per molti secoli un appannaggio quasi esclusivo dell'Italia poi il merbo di questi studi è passato alla Francia all'Olanda e infine nel nostro secolo è la Germania ad essersi dedicata a questo studio con più zelo e successo delle altre nazioni nei secoli passati migliaia di giovani varcavano le Alpi per studiare diritto in Italia che ne direste se ai nostri giorni gli italiani ci rendessero la visita e effettivamente la proposta si rende subito conto è questa si è parlato di migliaia di studenti e qui ovviamente subito Savigny usa una delimitazione che mi ricorda molto da vicino la raccomandazione tipica di Bobbio esagerù Manen naturalmente scrive Savigny in misura limitata per raggiungere questo fine non occorrono migliaia di studenti basterebbe che un piccolo numero di giovanotti sempre a maschile perché ovviamente le donne non partecipavano a queste cose ben selezionati e destinati alle cattedre universitarie venisse inviate per qualche anno all'estero con l'appoggio dei vari governi a completare i propri studi sono certo che questa misura riscuoterebbe un buon successo cioè si esce dalla prospettiva del Grand Tour che potevano compiere solamente le famiglie abbienti e si entra viceversa in una struttura in cui lo Stato favorisce l'intercambio culturale scrive ancora Savigny a lode del governo piemontese il suo governo signor Sclopis è quello che supera tutti gli altri in Italia per la savia protezione che accorda con tanto successo agli studi solidi sarebbe quindi ben degno di lui l'estendere questa sua protezione alla misura che ho avuto l'onore di esporle forse il signor canonico potrebbe formare la prima fila di questa nuova specie di missionari internazionali e poi subito aggiunge davanti a lei signore non ho bisogno di difendermi dal remprovero di presunzione o di ambizione nazionale lei conosce tanto quanto io stesso nell'ambito della scienza la totale solidarietà del progresso e delle conquiste che esiste fra le varie nazioni in questo campo non c'è spazio per la gelosia né per l'invidia si tratta solo di emulazione di comunicazione e di mutua partecipazione guardate che modernità in questi tre principi che vengono enunciati a questo punto la risposta di sclopis è andata persa però sappiamo quello che ha risposto dalla successiva lettera di Savigny che gli dice la sua lettera mi ha fatto molto piacere attestando che lei approva il mio piano per far compiere a studenti selezionati un complemento di studi nelle università straniere virgola cioè tedesche questo è chiaro lei aggiunge è vero che questo momento non è favorevole alla realizzazione di questo progetto siamo in un periodo di spese gravi eccetera e quindi è un momento ancora in cui finanziamenti di questo genere non sono pensati bisognerà attendere dice lei che bisognerà attendere e che lei non mancherà di approfittare del momento opportuno per prospettare quest'idea e poi aggiunge io non sono né sorpreso né scoraggiato dalla sua osservazione nella vita delle nazioni alcuni anni sono senza importanza io credo che questo messaggio positivo rivolto alle nazioni che stanno attraversando momenti difficili qualunque riferimento alle nostre nazioni non è casuale ma è inevitabile sia il messaggio incoraggiante che Savini ci affida per il futuro e con cui egli si è accommiata da questo nostro incontro ed io mi accommiata da voi grazie per la vostra attenzione grazie a tutti grazie a tutti